La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, ha eseguito un'ordinanza di custodia catolare messa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettore Antimafia nei confronti di 30 indagati ritenuti gravemente indiziati a vero titolo di associazione a delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti, porto di detenzione di armi e comuni da sparo, lesioni personali aggravate, estorsione, singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti e accesso in debito a dispositivi idoni alla comunicazione da parte di detenuti. La misura è stata messa all'esito delle indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile grazie anche al supporto dei commissariati a Secondigliano e Poggio Reale, della squadra mobile di Avellino e del commissariato di Anzio, a seguito del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un uomo avvenuto il 20 settembre 2021. Nel corso dell'indagine è emerso che l'evento delittuoso era da individuarsi in una risposta ad un altro agguato, ovvero il ferimento di altro individuo avvenuto il 2 settembre 2021, per il quale sono gravemente indiziati due uomini. Dall'attività investigativa è stato possibile evidenziare che tali eventi delittuosi trovano origine nel clima di forte tensione registrato all'interno del gruppo della Stadera, costa del clan Contini, in seno al quale è maturata una scissione. Dagli approfondimenti investigativi è emersa infatti la volontà di uno degli indagati di creare un gruppo criminale autonomo che si è approvvigionato di sostanza stupefacente a seconda della convenienza economica del momento, sia da canali riferibili a contesti criminali della zona di Scampia, sia in quelli della zona del cunolo, quartiere Poggio Reale. Allo stesso tempo la compagine riferibile allo stesso, oltre alla vendita al dettaglio del stupefacente effettuata nell'area della cittadella tra il comune di Casoria e Napoli, ha anche fornito sostanza stupefacente a piazze di spaccio stanziali nei quartieri Ponticelli e Secondigliano, la città di Avellino e anche quella gestita dall'altro indagato all'interno della casa circondata di Salerno, ovvero all'epoca recluso. Nelle occasioni in cui i gestori dell'attività di spaccio non onoravano i debiti accumulati, venivano posti in essere condotte estorsive. È emerso inoltre che il gruppo a disponibilità di armi ed ha dimostrato la volontà di acquisirne sempre di più al fine di essere pronti ad eventuali scontri armati con altre fazioni criminali. Durante l'attività investigativa infine sono stati acquisiti elementi indiziari a carico di altri due soggetti per riferimento a colpi d'arma da fuoco avvenuti il 17 dicembre 2019 ed è inquadrato nell'ampito dello scontro in atto all'epoca tra i gruppi di spacciatori della Stadera e quelli del rione Bronx. Per 13 degli indagati è stata disposta la custodia caturale in carcere per i restanti 17 il divieto di dimora nella regione Campania. Il provvedimento eseguito nella misura caturale risposta in serie di indagini preliminari verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.